E adesso, direttamente dalle reti ammiraglie della televisione italiana, arriva niente po' po' di meno che... Eh sì, ve lo faccio ascoltare, perché adesso dovrebbe arrivare la sigla Studio Sport! Chissà le notizie di stasera come sono. Buonasera e bentrovati con Studio Sport con Lucia Blini. Buonasera. Il piede dello sport va forte. Ora i mondiali di golf, argento ai campionati europei di salto in lungo, vittoria ai campionati estivi di Cajac, inoltre sono in Italia l'internazionale di tennis e il Giro d'Italia. Ma noi iniziamo con la Juve. Ma come? Il settimo posto permetterà comunque ai bianconeri il primo posto davanti ai maxi schermi per vedere le partite europee. Sentiamo cosa ha detto il tecnico più incerto della Serie A, del Neri. Ma come parli? Oltimamente abbiamo fatto un'ottima scuola di tre punti positiva. Non riesco a vedere. Però direi che ha la scuola di scuola di Cajac. Parla più piano, del Neri. Non è che tre punti più o tre punti meno si possono dare giudizi diversi. Non scuola di caldo, che mi sarebbe troppo ridottiva. Quindi penso che la squadra per scuola di caldo, non è diversa la nuova durante l'anno si può fare meglio. Ma il di settima è per il mondo. Sì, ho capito. Tre punti in più e tre punti in meno, basta. E ora parliamo di una nuova squadra che si è regolarmente iscritta al campionato di Serie Z, la Web Radio Networking. Eh, addirittura. La squadra allenata dal tecnico Aulet spera in un rilancio immediato. Ecco le ambizioni del presidente Vincenzo Ferrara. Caspite! Benvenuti a questa cosa che non so neanch'io cos'è. Il direttore Ferrara. Davvero interessante che tutti i ragazzi che ci seguono sappiano che anche scrivere sulla chat. Pensate che io so fare anche meglio. Non solo parlo in radio e scrivo in chat, ma ordino i finucchi dal frutto di vendolo. Quelli duri, specifichiamo. E poi mangio anche tante cosce di bollo. Salutiamo il direttore Ferrara. Grazie, inviati. È tutto per il momento. Studio Sport torna da notte alle 3.23. Buona giornata, arrivederci. Mi sei piaciuta, Lucia Blini, con questo servizio al direttore che io non sapevo. Avete intervistato il direttore su un servizio di sport. Non so quanto possa avere a che fare il nostro direttore Vincenzo Ferrara sulla sport. Anche perché la web radio net turchese non è che esiste. Eppure se esistesse vorrei farmi una partita contro la Juventus. Anche perché comunque la Juventus ha i livelli nostri, sta, no? Grazie. Grazie. Grazie.